ok oggi ci siamo facciamo una gita andiamo a trovare un amico al maneggio adesso facciamo la strada la facciamo veloce e poi vediamo ciao guardate qua rampi la spoileriamo sul mio canale svilipilla finalmente funziona giuro ho pensato adesso ci so che sto proprio la macchina la mando indietro poco 80 euro me la mandano un'altra ciao ciao bene bene aspetta che io faccio i video come 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 si è messo tu con le telecamere le mordi non ti fa niente giuro che non ti fa niente forse che non ci dai una mozzicata buongiorno che si dice eh no aspetta che non voglio passare dietro a questa roba questa che c'ha questo che c'ha sto dormendo buongiorno buongiorno si si volentieri scelta che c'è anche da sotto bianco e nero guarda, 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 passa sotto ah si scusate soprattutto lo garage in cui vediamo 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 mi nessuno ah ma abbiamo una macchinetta è bello qua pappagallo di la 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 insieme cosa ti danno a copro dieci ciao è un po insimante questo pappagallo che dal nulla ti dice ciao il mio treppiedi gigante c'è nessuno ci sta salutando le tante ciao c'è la campagna che mi chiede un po' di cavallo ah sì è vero che non vedete? no, non vedete fino a qui bene quanto paga il quale metri? 2.40 l'esercito molto bello la legge la legge lui ha avuto qua per vedere le bosse la legge 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 abbiamo fatto la merenda adesso torniamo a romper le scatole ai cavalli però rompe le scatole mai però bello eh ciao papà e allora che si dice? gallo Juve vabbè tavolo di là ognuno ha il proprio garage eh la dovrebbe essere tutti ecco la il reparto lavaggio che è perché? ho luci no quella lì dove c'è luci qua il reparto lavaggio il cavallavaggio ciao ciao oh buongiorno ciao 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 è ehi 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 abbiamo tutto ne ho fatto un cazzo c'è il sonno un giorno no non è chavo ok ehi Grazie. Andiamo a preparare il cavallo. Sì, ci siamo giù. Qui praticamente abbiamo tutti gli accessori, questo dovrebbe essere il mangiare. Scoleriamo tutto ciò che è. Faccio la città nera. Direi che questo qui sta anche in giacca e cravatta. Perchè c'è il pieno di rapese? Perché mangio dalla retta, mangio al piano. Ah sì? Dalla retta del pur. Sì? Non si smette mai di imparare a mangiare dalla retta. Cazzo io mi cazzo quando non mangio tanto, più che non ti dà la retta. C'è il mio deposito sell. Vedi cosa? Guarda cosa si fa per registrare un paio di scatola. Che fine di merda! Che brutta film! Cosa fai? Hai capito? No. Può fare blu. Qua è bello di tutto. Ah. Bello, bello. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Quella è tutta fatta qui. Sì? Tutto tu blu? Ah. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Questa è una telecamera, non ti fa niente, capito? Che cazzo vuoi togliermi il cappello? Eh, vuoi togliermi il cappello? Questa è un paese mio, bambini. Meglio qua qua. Bambini così tu, pensare grandi con bambini? Eh, è meglio stare qui, dai. Tirare i piccamenti. Questa è un paura che ha aiutato i bambini. Macavallo? Sì. Sì. Se si spossa non la prendi qui. No. Pure. Grazie. Sì. Sì. Ti faresti mettere dita nel naso da un cavallo? No. Eh? Sì. Ti faresti mettere dita nel naso da un cavallo? No. Sì. 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 C'è stato il safe? Be ‑‑ Him. 크� Pentagonno neurologico, oggi è il tuo Pasqua. floorscava. Sì capitolo del par deinenlixio e quartiere. Come il padrone non parla mai! Non parla mai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bello. No, nessuno è questo di Ponte, cioè, forse non devi passare dentro il paese. Grazie a tutti. Faccio una foto, faccio l'accordo qua per terra, così. Lei alza la testa, mi guarda, ha visto che l'accordo andava dietro, mica è partita. No, no. Andiamo per la strada, in mezzo al bosco, non lo vedo più. E poi? E poi ho fischiato due o tre volte e è corto tutta la strada. Oh, madonna. E poi ho detto, no, mi faranno delle fettine. Le fettine di cavallo. Sono buone, cazzo, anche la salsiccia. E invece niente, è qua, è qua. E' ritornata. Che bella, eh? Sai che mio padre, quando andava a cavallo, il cavallo l'ha sbattuto fuori. Lui è caduto in piedi. Soltanto che gli si è incassato il tallone. E poi da lì l'ha smesso, perché si è fatto un po' di tempo in... Eh, sì. Gli hanno tirato sul tallone e gli hanno sparato un chiodo, sai dove c'è il perno. E poi fai video su YouTube? Sì. Sarà l'unico video dove ti metto il pollicello. Tutti gli altri che ho messo il pollicello in giù. Questa qui è Marco. Perché se non lo conoscete, lui è Don Calca 73 sulla PlayStation. E mi uccide sempre. Senza pietà. E gioca con la chiavetta inserita, con i trucchi praticamente. Lui, eccolo tu. Capito? Guarda questa tutta stia erba. E poi ti sbagli. Ah, tutti i pollici in giù mi metti. Capito? I tuoi follower. E allora, tutto bene? E allora, tutto bene? E allora, tutto bene? Guarda come ti cura. Pensa che mi sono portato anche il porta- nelle espectri. E' Andrea, un da parte. la telecamera te la metti in testa ma si è ma completare gli accessori quelli così no quello lì lo metto è quello no solo lì da petto marco che ti spiego perché quello in testa vedi soltanto poi davanti invece quello da petto vedi che sei a cavallo sembra una battuta a cavallo voglio dire che siamo contenti della risoluzione del problema gopro 10 perché sennò ti schiacciavo sotto un camion invece no dai ringraziamo il supporto del gopro plus per aver risolto il problema praticamente cosa faceva accendevo faceva il display andava al verde 6 flash e si spegneva si accendeva il verde si spegneva infatti domenica scorsa mi sono fatto un giro scooter l'ha fatto l'ho lasciata finché non si si seguiva la batteria volevo fare un bel video 6 è capito contatti cosa faceva perché lo facevo e ho chiamato prima volta e ho scaricato tramite un link che mi hanno mandato loro gmail ho scaricato ho fatto detto un buon casino perché dovessi farlo da computer perché quando tu metti la memory card nel tablet è come i telefoni in automatico crea delle cartelle perché quando tu fai foto whatsapp lui te le suddivide invece col computer non le crea ma allora che cosa ho fatto l'ho fatto comunque dal tablet ho creato tutto poi sono andato a cancellare tutto quello che creava per il telefono l'ho messa e funzionava ma ha funzionato un giorno il giorno successivo vado per prendere per fare un video non ha rifunzionato di chiamato uno di il centro assistenza e insieme abbiamo fatto l'affare che adesso sembra funzionare abbiamo lasciato loro dietro t max 125 niente ci vediamo dopo quando siamo al galoppo ciao no 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti